Grazie a tutti E ora E noi passiamo al gruppo N con Bruno Belluso Su un 16 di M24 Che va ad allinearsi Il rongello al traguardo in 2.54.7 Abbasso il miglior tempo che apparteneva a Marchio Mamma che ne la subo Grazie a tutti Pirroncello taglia il traguardo con 3.18.47 Pronto con il numero 71 Bruno Belluso Abbasso il 106 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E passiamo al gruppo N con Bruno Belluso Su Peugeot 106 Capirà le danze Di uno dei gruppi più significativi del mondo delle gare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti